Stiamo vedendo tutti insieme che riusciamo a creare tanto e anche a concretizzare, il che fa molto piacere a tutta la squadra e non solo agli attaccanti, perché significa che il gioco che fai comincia ad avere un senso, fondamentalmente uno gioca per fare gol e per vincere. Noi non ci siamo mai prefissati un obiettivo preciso se non quello della salvezza, non è che diciamo di sognare oppure arrivare chissà dove. Noi vogliamo salvarci e secondo me anche salvarci sarebbe una gran bella impresa, perché come si era profilata all'inizio stagione con i punti di svantaggio, una squadra molto giovane, stiamo facendo molto bene, ma il campionato è veramente tanto lungo e quindi bisogna capire che abbiamo fatto bene, veniamo ad un periodo positivo di tre partite positive, ma non bisogna mai commettere passi falsi, perché come te siamo in mezzo.